Cosa è scrivere se non l'unione perfetta fra sguardo e voce? In questo corso imparerete ad allenarli entrambi, ad affinare lo sguardo, a liberare la voce che saprà raccontare la vostra storia. Inizieremo con gli occhi per guardare il mondo. Due lenti speciali, una per le stelle, l'altra per i tarocchi, saranno i vostri strumenti per comprendere la realtà e raccontare la vostra storia, unica e riproducibile come un tema natale. Non è magia, è la scrittura, il luogo dove il cielo e la terra si incontrano. Io sono Melissa Panarello e vi aspetto al nuovo corso online della Scuola Olden e scrivere di sé e degli altri con i tarocchi e l'astrologia.